Saran' belli gli occhi neri, saran' belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, a me piacciono di più. Saran' belli gli occhi azzurri e l'asilo un po' all'inzù, ma le gambe, ma le gambe, sono belle ancora più in più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' le pose ti faranno innamorare. Saran' belli gli occhi neri, saran' belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, a me piacciono di più. Ma le gambe, 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 gambe. Dorme il mulino al vento sotto la luna d'argentù, dorme l'olandesino nel suo lettino d'argentù. Ogni cosa giace, tutto tracce, che pace, che pace. Oggi io parlano caro, parlano caro. E' arrivata finalmente nella città, dovrebbe atterrare da un momento all'altro. Facciamol'atterrare a questo punto, anzi seguiamo in diretta l'atterraggio di Elena con il suo deltaplano. Questi sono le cloche, chiamiamole così, le comande che ci permettono di guidare il deltaplano. Questa è Elena che sta per atterrare. Sentiamo anche i rumori della città. Certo, abbiamo tutti i suoni che vengono riprodotti fedelmente. Vorrei pregare l'amica che è in linea ad aspettare ancora un attimino, vogliamo seguire l'atterraggio di Elena. Vediamo se atterra. Eccola, ecco il punto dove Elena dovrebbe atterrare. Vediamo che atterraggio fa. Ma va aperta. Elena, sostituiamo Elena con un'altra... Eccola qua, subito lui vicino a me. Allora, il tuo nome? Io sono Giovanni. Giovanni, cosa vuole chiedere? Io vorrei chiedere se magari l'uso del computer, magari in un futuro prossimo, dal punto della realtà virtuale, può provocare magari a lungo andare un danno fisico magari agli occhi oppure al cervello. Le tecnologie che sono usate all'interno di questo casco sono perfettamente a norma, hanno superato tutti i vari test di utilizzo, quindi assolutamente non ci sono problemi. E il computer in generale? Ma il computer in generale, in effetti ci sono degli studi che stanno analizzando questi effetti. Sicuramente come tutte le tecnologie hanno influito, diciamo, sullo sviluppo dell'uomo, anche questa tecnologia influirà sulla modificazione anche, diciamo, genetica. Ma è un futuro molto molto lontano e comunque rischi immediati da questo punto di vista non mi sembra proprio... Ma ragazzi, ci hai portato anche altre immagini molto interessanti che riguardano un incendio che è avvenuto qualche tempo fa a Los Angeles e sono stati ricostruiti in realtà virtuale con l'aiuto del computer quegli edifici, se non sbaglio, che erano andati distrutti, in modo da poter rivivere quella a Los Angeles. Vediamo queste immagini e magari ce le commenti anche insieme. Volentieri, è un'esperienza che è indicativa di come questa tecnologia sia a servizio della comunità. Tempo fa c'è appunto stato questo grande incendio a Los Angeles, in una zona che è un quartiere che è una stranissima città, allora con l'aiuto della popolazione, questa esperienza della Silicon Graphics, con l'aiuto della popolazione si sono ricostruite la parte della città distrutta, si è andata a verificare il nuovo progetto di tipo urbanistico, permettendo agli abitanti di quella zona di andare proprio a verificare se il volume, gli spazi, eccetera, sono tollerabili e compatibili con la loro vita quotidiana. Questo era, abbiamo visto il passaggio tra l'immagine reale e quella ricreata dal computer. Cioè è uno strumento che ti permette di verificare, prima ancora di dare il via al progetto finale, esecutivo, vero, di verificare la bontà del progetto. Ma secondo te dove ci porterà questa realtà virtuale? Ma guarda, io lo vedo nei termini di uno strumento di grande futuro nel campo della comunicazione. Come c'è stato appunto il telefono, c'è la televisione, eccetera, potrebbe essere il quarto media, se vogliamo, e quindi dove ci porterà ad avere una tecnologia che ti permette di dialogare in tutto il mondo, in tempo reale, condividendo progetti, spazi, oggetti, eccetera, con altri individui. Raffaele, quali saranno i giochi e le applicazioni dell'artità virtuale sui giochi? I giochi per adesso sono dall'esperienza di volo in deltaplano a una battaglia spaziale, a un volo in aereo, la possibilità di giocare in un adventure in cui si può andare in giro a cercare i pezzi, aprire, guardare se ci sono, comporre varie figure, varie parti, fino ad arrivare a risolvere un problema. E poi applicazioni se sono messe. Con l'utilizzo anche di mezzi come il guanto. Certo, col sistema col guanto, eccetera, eccetera. L'ultima domanda vorrei la facesse lei, che me l'aveva suggerita prima ed è molto interessante, perché devo dire, un po', a sentire anche i ragazzi, questa realtà virtuale, un po' di paura, un po' di terrore lo incute. La tua domanda? Io vorrei sapere a quali, a che cosa ci porterà la realtà virtuale, quindi a quali piaceri in una vita futura, nel 2000, nel 3000. Ecco, cioè, voglio dire, questa realtà ci porta in un mondo che non esiste. Sì. Ma non è pericoloso. No, io direi, guarda, è vero che è appena uscito in Italia un film che è il tagliaerbe, che ha fatto praticamente discutere proprio a questo riguardo, perché è un film dove si mostra i rischi di una tecnologia che ti porta in mondi di evasione, di fantasia assoluta, con una sorta di fuga dalla realtà. Io direi, allo stato attuale si può intanto prefigurare che è uno strumento che ti permetterà sicuramente di entrare in mondi immaginifici, di entrare in un immaginario generato dalla tecnologia che non ha limiti di tipo figurativo, cioè si può rappresentare quello che vogliamo, ma rischi dal punto di vista psicologico non le vedrete. E poi non si perde il rischio, no, non si perde il rischio del contatto con la realtà. Allora io vi ringrazio tantissimo, anche perché a sorpresa arriva il nostro momento di supervision, l'applauso per il momento della benfortuna, approfitto anche, ti porti via la camera, lo so, però volevo ringraziare Raffaele, volevo ringraziare la nostra amica Maria Grazia Mattei, grazie della vostra partecipazione e vai con il momento della benfortuna. Venite con me, venite con me, raggiungo i nostri eroi.